Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. L'ariete è il maschio della specie ovina. Noto per la sua robusta cornice e le grandi corna a spirale che utilizza durante i combattimenti per stabilire la dominanza o difendere il gregge. Questi mammiferi erbivori sono stati tra i primi animali ad essere addomesticati dall'uomo e sono utilizzati per la produzione di lana, carne e latte. Gli arieti variano significativamente in dimensione a seconda della razza, con una lunghezza che va da 63 a 127 cm e un peso che oscilla tra i 20 e i 150 kg. La loro aspettativa di vita media si aggira intorno ai 10-12 anni. La colorazione del loro mantello può variare notevolmente, ma è comunemente bianca, nera, marrone, o una combinazione di queste. Gli arieti si nutrono principalmente di erba, piante e semi. La loro dieta può includere anche altri vegetali, come foglie, fiori e radici a seconda della disponibilità stagionale. Nonostante siano prede naturali per predatori come lupi, coiote e grandi felini, le pratiche di allevamento moderno hanno notevolmente ridotto il rischio di predazione per gli arieti addomesticati. Gli arieti sono diffusi in una varietà di abitati in tutto il mondo, dalle gorscheale ai campi aperti e le steppe. La loro presenza è particolarmente nota in ambienti temperati, ma attraverso la domesticazione e l'allevamento sono stati introdotti e si sono adattati a un'ampia gamma di ambienti, comprese alcune aree montagnose e desertiche. notizia Grazie a tutti.